No, ma non è un segreto che il nostro obiettivo è quello, però ci sono tante altre partite, come ho detto oggi ci teniamo stretto a questo punto e sarà un mattoncino che aggiungeremo alla nostra cavalcata e vedremo se alla fine ci sarà servito. Ti voglio chiedere una cosa perché nel secondo tempo siete andati meglio rispetto al primo, la mia impressione è che quando vi ho visto rientrare nel primo tempo, quando vi stavate rientrando prima di iniziare la ripresa eravate molto tranquilli nonostante foste in svantaggio, è questa sicurezza che avete nella vostra capacità, nelle vostre armi il segreto adesso, la mentalità che avete per portare a casa i risultati, comunque anche un buon pareggio oggi? Sicuramente abbiamo trovato la quadratura giusta, quindi siamo tranquilli, sappiamo che davanti Lauti, Alexis, Romi ci possono risolvere la partita da un momento all'altro, ma tutti, siamo tutti verso l'obiettivo, ci impegniamo tutti, tutti diamo il massimo, questo è quello che ci chiede il mister e noi lo facciamo. Luca, quello che diceva un po' Ale, c'è una bella consapevolezza, si vede nel gruppo o nella squadra, lo chiede anche da queste parole Barella. Si, si vede.